Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo la supermedia delle liste realizzata da AgiU Trend. Vediamo che Fratelli d'Italia perde lo 0,2 al 27,2%, il PD perde lo 0,2 al 19,8%, il Movimento 5 Stelle al 16,3%, Forza Italia 8,5%, cresce dello 0,3%, Lega 8,2% invariati, Stati Uniti ed Europa 4,7% scendono di un punto percentuale, Verdi e Sinistra al 3,9% crescono dello 0,2%, Azione al 3,7% più 0,2%, Libertà 2%, Pace e Terra, Dignità 1,8%, Noi Moderati 0,9% in discesa dello 0,1%, Coalizioni, centrodestra stabile al 44,8%, Campolargo 40%, Centro Liberale 8,4% scende dello 0,8%, Altri partiti 6,8% in crescita dello 0,8%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.